registrazione video full hd da xiaomi redmi note 5 pro cambio di luce visto che stiamo andando completamente contro luce immagine non sembra stabilissima dall'anteprima ma c'è un gran sole non vedo benissimo lo scopriremo soltanto dopo registrazione anche dalla videocamera frontale dello shower me dello show me redmi note 5 pro anche questa non sembra proprio stabilissima il campo però quantomeno è abbastanza ampio luce molto forte quindi comunque scena non semplicissima attorno a me c'è anche un bel po di traffico lì sta passando un enjoy che probabilmente era quella che stavo cercando io e che mi hanno fregato e quindi me la sto facendo a piedi nian adesso mi spieghi nian perché come mi giustifichi questa posa se non con il fatto che vuoi fare la diva di instagram e di youtube niente nessuna risposta nian questo silenzio è eloquente è anche questo è molto che soffiano registrazione video full hd xiaomi redmi 5 stabilizzato elettronicamente zoom digitale 8x sul condizionatore torno indietro movimento rapido cambio di messa a fuoco cambio di luce registrazione video full hd xiaomi redmi note 5